Ma mi ha sorpreso Quanto è multinettica quella società Mi aspettavo una società multinettica ed estremamente giovane Però non a quel livello Quindi questo su tutto Una sorpresa enorme iniziale, non bella in realtà È stata l'approccio con la lingua che è stato pessimo Perché parlano davvero una tipologia, un dialetto d'inglese estremamente strano Io poi, la mia prima esperienza in Australia è stata a Brisbane Che è nel Queensland, nella parte diciamo a nord di Sydney fondamentalmente Che è un po' un'area rurale fondamentalmente E niente, quindi la lingua anche inizialmente è stata un problema Però se devo essere sincero, il resto è tutto come l'avevo immaginato Nel senso, chiaramente pensando all'Australia Pensi a spazi enormi, a una natura meravigliosa E estremamente diversa da quella che siamo abituati a conoscere Quello era esattamente come me l'aspettavo Non mi aspettavo probabilmente determinati livelli di ipocrisia Nell'affrontare aspetti della vita Ecco, uno ad esempio relativo al rapporto con la popolazione aborigina Di come molto spesso si tende a dimenticare, coprire Molto spesso in modo ipocrita problemi reali e grossi che ci sono Ma diciamo che l'impressione iniziale è stata più o meno fedele a quella che erano le mie idee Mi ero documentato, avevo letto abbastanza prima di andare Una cosa che mi dà estremamente fastidio è come molto spesso i media italiani dipingono l'Australia Per molti anni, ora non so, non leggo articoli sull'Australia da un po' di tempo Però se ne parla come un posto meraviglioso dove tutto funziona, dove tutto è facile Questo genere di narrativa ha portato veramente molti e di casi ne abbiamo visti tanti A venire a sobbaccarsi il lungo viaggio venendo con speranze che poi non vengono attese Gli aborigini sono la popolazione più antica che abita questo pianeta Cioè nel senso si stima che i primi, almeno come dire, le datazioni che sono state fatte sui siti eccetera eccetera Risalgono a un periodo che va dai 30.000 ai 50.000 anni fa E quindi la popolazione è sopravvissuta al giorno d'oggi, più antica Con una cultura straordinaria Una cultura però che è stata calpestata, distrutta, modificata con coercizione Non è nulla di diverso rispetto a quella che abbiamo fatto in Sud America dopo il 1492 E le condizioni purtroppo sono molto negative Nel senso che più del 50% degli aborigini vive nel nord Australia Quindi è la zona chiaramente meno urbanizzata e anche la zona più calda Il problema è che hanno ricevuto diritto di voto nel 67 Da dopo la seconda guerra mondiale sono stati cominciati ad essere considerati come persone in realtà Perché prima erano praticamente i diritti degli animali E d'altra parte poi c'è stata anche questa idea meravigliosa avutasi negli anni 60, 70, 80 Di insegnargli la nostra cultura occidentale Quindi c'era quella generazione conosciuta come ragazzi perduti Ovvero si è andati nelle isole, si sono prelevati i bambini dalle madri Si è cercato di insegnare i dettami della nostra città occidentale I dettami della nostra religione e quant'altro Il risultato quale è stato fondamentalmente? Che questi ragazzi sono cresciuti adattandosi praticamente per nulla Anche perché poi fondamentalmente l'Australia è un posto estremamente cosmopolita Ma fondamentalmente razzista Un po' come l'America, nel senso che il bianco è la razza dominante L'integrazione è stata praticamente inesistente E si sono create le radici di un problema che si porta avanti tuttora Attualmente il governo dà un sussidio mensile agli indigene australiani Chiaramente il livello di adattamento è stato zero Quindi questi qua praticamente non sono riusciti ad integrarsi nella società Non sono riusciti ad avere un lavoro fondamentalmente Sono praticamente impossibilitati a vivere la vita che vorrebbero vivere E quindi sono falcidati fondamentalmente alla piazza dell'alcolismo Quindi buona parte di quella che prendono se lo bevono Questo qua agli occhi dei nuovi australiani Che di storia ne conoscono veramente poco È qualcosa di deprecabile chiaramente Ma loro giudicano semplicemente l'atto senza ricordarne le conseguenze E noi che viviamo in Australia al momento Dobbiamo sottostare a ipocrisie che sono onestamente fastidiose Io in università ogni volta che comincio un corso Devo leggere uno statement nel quale dico Prima di cominciare questo corso io do atto e rispetto Gli original owners of this land I proprietari originari di questa terra Le popolazioni bla 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 È un atto ipocrita e gratuito A mio modo di vedere Nel senso che i proprietari di questa terra Sono stati confinati al nord Stanno ancora al nord I loro discendenti bevono tantissimo e non hanno un futuro Mentre noi siamo qua che prosperiamo Però è un discorso che abbastanza Oddio le cose stanno migliorando tantissimo Anche perché insomma in questo senso l'università sta aiutando molto Nel senso che Però chiaramente i disastri sociali si riparano in decenni e in secoli E quindi la situazione migliorerà ma ci vorranno decenni per migliorare Sta migliorando progressivamente ma insomma ancora molto 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 Ok bellissima domanda tra l'altro credo che ne racchiuda proprio tante Allora ti senti in cerro del fuga? No Per niente Assolutamente no Mi sento una persona che ha curiosità Voglia Sempre ha avuto voglia di conoscere e che sta conoscendo Con o senza un cervello Quello è estremamente relativo Chi va è meglio di chi resta? No assolutamente Credo che chi resta sia molto meglio di chi va Di norme Poi chiaramente con le dovute eccezioni Però io Qua Ti posso parlare del mio caso Conosco persone che hanno Studiato con me Che avevano Senz'altro Probabilmente anche più capacità Nel poter proseguire la carriera accademica Ad esempio C'è chi ce la sta facendo Probabilmente con più difficoltà rispetto a quelle che ho io Io sono andato via per curiosità Ma anche con la certezza che qua non ci sarei riuscito Non ci sarei riuscito non solo perché è più difficile Probabilmente perché non mi ritenevo capace abbastanza di rimanere Quindi assolutamente no Diciamo Chi resta probabilmente migliore Marcello penso che quando Tu Come dire Ti prefiggi un obiettivo che sia lavorativo Cerchi di perseguirlo in qualche modo Io qui non ho proprio provato a perseguirlo in realtà Quindi sinceramente non so come sarebbe stato Onestamente Non era proprio nel mio interesse perseguirlo Ma per esempio il mio istinto iniziale Non è stato quello di cercare di raggiungere un obiettivo professionale o altro Io tu lo sai benissimo Volevo vedere cose Ed è ancora quello Quindi anche quello che l'Australia ti può L'Australia mi dà tantissimo È la mia casa attualmente Un posto che mi piace da morire Ma non è la tappa finale del viaggio Ce ne saranno molte altre Però insomma Melbourne è diventata la mia casa Tra l'altro è una delle poche città Che ho odiato profondamente Nel primo approccio Perché era inverno Perché ha un clima inaccettabile Perché era bruttissima È stata bruttissima il primo acchitto Sono arrivato, avevo soltanto tre giorni Melbourne ha un clima estremamente particolare Cambia molto velocemente a seconda del vento Del quattro stagioni Che è vero Cioè nel senso se non lo vivi Però è proprio vero C'era brutto tempo E la città mi sembrava estremamente limitata Avevo anche moltissime aspettative Perché mi hanno detto No Melbourne è la città più europea dell'Australia Ti sentirai quasi a casa Sarà bellissimo l'ho odiata Poi in realtà Insomma conoscendola bene Mi sono reso conto Che in primo luogo mi ero perso moltissime cose Nel senso tre giorni non sono sufficienti A vedere la città Mi sono pian piano abituato al clima E niente Ne ho cominciato ad apprezzare Le caratteristiche Che poi sono fondamentalmente Un ritmo di vita estremamente tranquillo Che molto spesso è Quasi ingiustificato Per una città di 5 milioni e mezzo di abitanti E' una città in cui Veramente insomma c'è tanto Sia sotto il profilo culturale Sportivo, sociale E' una estremamente giovane E' estremamente viva E quindi niente Come dire Adesso è un posto che Che è diventato casa Sì sì Però Il verde E' fondamentale E mi piace correre Quindi la possibilità di andare in giro Di andare a correre Di andare appunto al parco col cane Il mangiare fuori Non insomma troppo spesso Anche perché spesso i prezzi sono un po' cattivi Però c'è una varietà di cucina Che è incredibile Questo multi-pot culturale Veramente dà una varietà Ogni volta Ogni sera che esci Praticamente impari qualcosa di nuovo Mangi qualcosa di nuovo Conosci qualcosa di nuovo E' una città che comunque Anche se non sembra Ha il mare Sì 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 Da qui si vede L'identità della città di mare Forse non come Sydney Assolutamente Assolutamente Anche perché Diciamo Sydney è in una baia Quindi il mare è praticamente nel cuore della città E a Melbourne è un pochettino defilato Però no Insomma durante il weekend Quando è possibile Soprattutto insomma In periodi di prima di resta Mi piace molto andare al mare E poi c'è una Bella comunità Ho trovato tantissime belle persone E Siamo anche un pochettino attivati Sotto il profilo Sociale Nel senso Una routine Per molti anni È stata quella di Partecipare all'attività Di un'associazione Che abbiamo fondato Nel 2012 Con degli amici Ed era Ed è Anche se insomma Adesso sono un po' meno coinvolto Una società di supporto Di aiuto ai ragazzi italiani Sì Cioè la si vede chiaramente In modo molto stereotipato Come è normale Che sia da fuori E Melbourne poi In particolare La comunità italiana A Melbourne Raggiunge quasi Le centomila persone E Buona parte di loro Sono migranti Diciamo Gli anni 60 Fino agli anni 50 Inizio agli anni 60 E Chiaramente La visione stereotipata Da una parte Un po' tira anche a livello commerciale Nel senso Soprattutto nella ristorazione Ad esempio Eccetera eccetera E D'altra parte però Appunto Non La conoscenza reale Ma in realtà Non soltanto Relativa all'Italia Insomma Ma del sistema Europa È Molto 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 Relativa Chiaramente Per quanto riguarda poi L'Italia in particolare Va anche detto Che viene vista In un modo Anche in un modo Un pochettino Funny Un pochettino strano Nel senso che poi Il livello di integrazione Della comunità italiana In Australia È una cosa Estremamente recente Per 30-40 anni L'integrazione Praticamente non esistita Quindi la comunità italiana È stata completamente Chiusa Al suo interno E Chiaramente Questa Comunità Da Di fuori Veniva vista in modo Un pochettino Strano E appunto Da ancora più adito Insomma La creazione dello stereotipo Dell'italiano Estremamente religioso Piuttosto che estremamente geloso Ecco Una cosa che penso Sì Molto Di a un pochettino O abbia dato in passato Un pochettino Di impressione Sul fatto che appunto Nella strana La donna è estremamente libera Insomma Come del resto Nel paese scandinave E quindi Sai queste leggende Sul siciliano geloso Che era una roba Che Però Al di là di quello È anche molto strano Dalla parte Della comunità italiana Nel senso che Ho conosciuto molte persone Che tipo Non sono tornate Per 20-30 anni Soprattutto Chi partiva all'epoca E loro hanno lasciato Un'Italia Del secondo dopoguerra Che poi è cambiata Velocissimamente Con gli anni 60 Non l'hanno vista Si sono chiusi All'interno Della loro comunità In Australia Quindi praticamente Io Immagino Come una sorta Di civiltà sospesa Nel senso che Non è né qui né lì Non si ritrovano Nei valori australiani Però non si ritrovano Nemmeno quando poi Si trovano a tornare in Italia Perché non riconoscono Quelli che hanno lasciato È davvero molto particolare Comunque sì C'è una visione molto Poco approfondita Delle cose Ma anche perché C'è un modo di guardare Le cose molto superficiale Onestamente Poi non voglio fare Generalizzazioni Però diciamo che C'è viaggio e viaggio Il viaggio in sé È in primo luogo È un'esperienza Preferibilmente solitaria O con persone Altamente selezionate Nel senso Siano capaci Di viaggiare Di fare un viaggio Il viaggio va ben preparato Non tanto Per i posti In cui vai Cioè nel senso I posti Non preparato nel senso Nella selezione Di dove andrai a dormire Preparato nel senso Che si prende la guida E si cerca di Conoscere luoghi Rifuggire Mi piace rifuggire Spesso dalle città Chiaramente poi Dipende dai posti Quando In periodo in cui Viaggiavo molto in Europa Preferivo vedere le città Anche perché abbiamo Insomma realtà così meravigliose Città così belle In altri luoghi Principalmente cercare Non tanto Di vedere cose Quanto piuttosto Di capire cose Di confrontarti Con la La realtà che trovi Parlare tanto Con la gente E in questo senso Qua essere soli È fondamentale Perché Se tu sei con un'altra persona Tu crei comunque Una barriera Perché volentemente Parli con quell'altra persona Sei anche Più difficilmente Approcciabile Quando sei da solo Se mai capito Uno ti vede da solo Ti vede da solo Ma questo cretino Che fa qua da solo C'è nel senso Gli parlo E Quindi sì Diciamo Sono un viaggitore Estremamente disorganizzato Nel senso che Viaggio L'organizzo sempre Sul posto Non mi piace neanche Di norma Quando parto Non prenoto Alberghi O guest house Posti da dormire Di solito Li prenoto Notte per notte Anche perché Prima di partire Non sai Se mai ti trovi In un posto Che è meraviglioso E richiede due o tre giorni E invece tu ne hai pensato Uno solo Certo Poi dipende sempre dal tempo Insomma Il tempo è la cosa più Purtroppo Ci sono tantissime cose Da vedere Purtroppo Poco Pochissimo tempo Per farlo Però sì In generale Un viaggiatore solitario Discretamente Come dire Pronto e aperto Discretamente Perché poi Insomma Ci sono quelli veri Che sono bravi Ma uno bellissimo È stato con Bok Un ragazzo In Oh scusami Un ragazzo in Cambogia Conosciuto vicino Vicino Siam Rap Che è fondamentalmente Vicino All'area All'area dei templi Ma vedi Poi alla fine Sono fondamentalmente Conversazioni Chiacchierate Bok Ha un piccolissimo Chiosco Lui La moglie Nel senso Lui e la moglie Lo gestiscono Poi hanno tre bambini E sopra questo chiosco C'è una sorta di impalcatura E sopra l'impalcatura In una stanza sola Vive tutta la famiglia Compresi due genitori Di lui E Fanno Un Un amok Strarbano Che è il piatto Tipico Della Della Cambogia Una zuppa Che può essere Sia bacio di pesce Carne Piena insomma Di tantissime spezie Loro E Io praticamente L'ho conosciuto Il primo giorno Che sono arrivato A Semrap E Sai quando Insomma Ti clicca qualcosa Con una persona E Abbiamo fatto Due lunghissime Chiacchierate In due serie Diverse Fondamentalmente Ad esempio Quelle chiacchierate Sono state fondamentali Almeno personalmente Per capirci un po' Qualcosa Del viaggio Che stavo facendo Il discorso Che facevamo prima Cercare di Capire i posti In cui sei I problemi Dei posti In cui sei Come ragionano Le persone In cui sei E Principalmente In questo caso In questo caso qui Quelle conversazioni Arrivavano in un periodo In cui ero Molto Pensieroso Sul come organizzare Il mio futuro Fondamentalmente E appunto E appunto Come ti dicevo prima Quelle due conversazioni Sono state Estremamente Rilassanti Nel senso Mi hanno tolto Molta pressione Nel senso Stai bene Nel senso Stai bene Nel senso Che c'è la salute E' inutile Che ti Porti addosso Il peso Che molto spesso La società In cui viviamo Insomma Ti mette sulle spalle Insomma Vivi un po' come ti pare Fai che devi fare Va bene Insomma Come dire Parole arrivate Da una persona Sconosciuta Nel momento Giusto Praticamente Un'altra Bellissima chiacchierata In realtà Non è legata All'Australia La feci Tanti anni fa Sofia Non ricordo In realtà Quando Dietro la piazza Del teatro Dell'opera Ci sono I vecchi Che giocano A scacchi Tutti Veramente Dai 75 Agli 80 85 Perché Perché praticamente Sono Abbondantemente N'età pensionabile Giocano A scacchi Con i turisti Per guadagnare L'euro I due euro Eccetera Io Da Pessimo Scacchista Appassionato Mi Mi capitò Di fermermi A giocare E Giocai Moltissime partite Con questo signore Che si faceva Chiamare Zio Vincenzo Ha deciso Di avere Il suo nome Italiano Ed ero O avevo appena Finito l'università O la stavo Per finire E anche quella Fu un'altra Conversazione Molto 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 Importante Nel senso Ogni tanto Come dire Sentire qualcosa Di diverso O di completamente Impensabile O fuori dal tuo modo Di vedere le cose Ti aiuta Perché è come una sorta Di scossa Una sorta di terremoto Che ti fa E niente Quindi insomma Ce ne sono poi Legate al viaggio È normale Che ci siano Ogni viaggio Ha la sua storia Le sue persone È anche È sempre un percorso interiore Poi fondamentalmente Perché il viaggio È tecnicamente Un modo Per capirsi Un attimino Dopo il viaggio Serve la vacanza Le volte Nel senso Che poi devi prendere Due o tre giorni Quindi per me Insomma Sono sempre Esperienze forti Fondamentalmente